Progettare un padiglione materno infantile del General Hospital di Malindi in Kenya. 40 posti totali, una sala parto, un blocco operatorio, più locali ambulatoriali e spazi per la formazione. Questa è la missione dei 20 studenti iscritti alla Winter School sull'edilizia sostenibile e la progettazione di costruzioni innovative nei paesi in via di sviluppo. La scuola nasce dall'esperienza didattica che abbiamo maturato nel corso degli ultimi tre anni all'interno del corso di laurea in Ingegneria edile e Architettura con dei workshop di dimensione più piccola che abbiamo fatto su progetti per Haiti e lo Sri Lanka. E nasce dalla consapevolezza dell'entusiasmo che gli studenti dimostrano per iniziative di questo genere con l'ambizione di mettere progressivamente in campo le nostre competenze didattiche e scientifiche in un settore come quello della cooperazione internazionale sul quale Pavia ha una lunga tradizione. Due settimane intense per gli studenti. In una parte della giornata workshop e lezioni con architetti, rappresentanti di ONG ed esperti del settore. Nell'altra il lavoro vero e proprio, ovvero la realizzazione di cinque diverse proposte progettuali dei circa 300 metri quadri della Maternity Unit che verranno poi presentate alla comunità, alle autorità locali e alla direzione sanitaria dell'ospedale entro marzo. Il progettare in contesti economici e climatici così complessi aggiunge una sfida ulteriore, cioè quella di produrre buona architettura con materiali presenti nel contesto. Per esempio in questo caso con dei blocchi di corallo che vengono utilizzati sul mercato delle costruzioni che è noto, in particolare di malindi, cavati da depositi di corallo fossile e che vengono utilizzati come blocchi per costruzione. Oppure il bambù che è presente sul posto e che può essere utilizzato per schermature solari. Quindi cercare di portare un approccio tecnologicamente sofisticato in materiali presenti sul luogo, senza immaginare importazione di materiali dall'esterno e quindi in qualche misura il progetto tende a essere un propagatore di conoscenza che venga a vantaggio delle popolazioni locali e che fornisca delle possibili linee guida per essere applicate anche ad altri contesti.